Dopo otto mesi di silenzio e di grido d'innocenza, la 38enne di Trebisaccio e Stefania Chiurco, studentessa di medicina a Perugia, ha confessato l'omicidio del padre Riccardo, insegnante, 72enne, in pensione, ucciso e fatto a pezzi e conservato in alcuni scatoloni. Ha messo le sue responsabilità, dando definitivamente conferma ai sospetti che pendevano in maniera grave in capo alla donna sin da quel tragico 31 gennaio. È stata lei, dunque, a farlo chirurgicamente a pezzi, conservarlo in un cellofana all'interno di alcuni scatoloni in un raptus omicida, frutto di evidenti alterazioni psichiche che ne avevano fatto di lei una persona schiva e asociale, con scarsi contatti con il mondo esterno. Una confessione toccante, fatta la presenza del PM Silvia Fontebasso, che ne ha ascoltato i dettagli snocciolati in una piccola stanza del carcere di Castrovillari, nel quale si trova rinchiusa da mesi. Il rimorso, che pesava come un macigno, l'ha spinta probabilmente alla confessione dopo mesi di proclamazione di innocenza e dopo una parziale ammissione secondo la quale avrebbe rinvenuto il padre già cadavere a aver fatto la scelta scellerata di nasconderlo negli scatoloni in un momento di forte panico. Intanto i legali difensori hanno richiesto per lei una perizia psichiatrica al fine di stabilire la capacità o meno della donna di intendere e di volere, istanza accolta dai magistrati inquirenti.